Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Come promesso oggi voglio mostrarvi, visto che sono presenti nel mio outfit di oggi, i gioielli che mi sono stati inviati da Let's In Style. Spero, come sempre, che si pronunci così. Comunque io sotto in descrizione vi lascerò i link diretti al sito per poter visionare e vedere tutte le cose che realizzano e che potete acquistare per pochissimo. E vi lascerò come sempre il mio codice sconto qualora vogliate ordinare qualcosa e il link dei gioielli che ho voluto ordinare io. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo solamente se vi fa piacere di supportare il mio canale iscrivendovi e se vi va, seguitemi anche negli altri social. Ora iniziamo subito, così vi faccio vedere come gli ho voluti abbinare il mio outfit di oggi. Allora, ho deciso di realizzare magari più video e non tre. Quindi non il video dove ho fatto l'unboxing e poi i video dove vi propongo i miei outfit, ma volevo proporvi dei video dove vi mostro il mio outfit di oggi che potete vedere innanzitutto qua al lato. Quindi vi mostro come li ho voluti abbinare oggi. Ho voluto indossare gli orecchini, quelli bambù, e la collana che io ho voluto portare a bracciale. Messa a collana non è male, però sinceramente a bracciale mi piace di più. Soprattutto abbinata a questi orecchini che sono già molto importanti. Il set comprendeva anche l'occhiale. Nell'altro mio outfit vi farò vedere come abbinerò gli occhiali e magari la catenina e il bracciale. Non so ancora perché io quando preparo i vestiti magari li preparo la mattina in fretta e quindi non decido il giorno prima o parecchi giorni prima quello che mi devo mettere. Vado un po' a sentimento. Comunque gli orecchini che porto su oggi sono gli orecchini bambù mi piacciono tantissimo uno per la dimensione due per la fattura perché questo tipo di disegno mi piace molto e tre perché avevo in passato degli orecchini di un altro brand che adesso non cito che poi ho venduto che erano molto belli ma molto pesanti e un orecchino così grande deve essere leggero quindi vuoto altrimenti è impossibile tenerlo con disinvoltura e poterlo portare e utilizzarlo questo lo utilizzerò spesso quindi me lo vedrete ovviamente lo abbinerò vi ho detto più volte che ultimamente sto mischiando un po' l'argento e l'oro come colore il rose mi viene un po' più difficile in questo caso con un orecchino così importante mi dà un po' fastidio abbinare oro e argento insieme a parte le due fedi e quindi ho tenuto su i cerchietti quelli piccolini e ho portato il terzo argentato in questo lato qui e ho messo i due cerchi che sono belli grandi e vistosi io adesso qua al lato vi farò un'immagine vi metterò un'immagine oppure a tutto schermo adesso valuterò un'immagine un po' più dettagliata di questi orecchini perché a parer mio meritano quindi non voglio penalizzarli e voglio che voi capiate al meglio di cosa stiamo parlando sì stiamo parlando di prodotti economici ma che riempiono l'occhio e secondo me possono anche durare se ovviamente trattati in una determinata maniera io avevo voluto scegliere quelli argentati e non quelli placati proprio per essere un po' più tranquilla spruzzandomi il profumo insomma per non far perdere la placatura però anche quelli dorati devo dire la verità mi piacciono tantissimo poi con l'occhiale secondo me sarebbero stati molto belli insieme per quanto riguarda la collana ve la sto mostrando in questo momento io l'ho voluta portare a bracciale come collana ve l'ho detto sin dal primo momento da quando ho aperto il pacco non mi fa impazzire come braciale mi piace molto io comunque vedo la possibilità di utilizzare questa collana anche in altri modi non solo come braciale può essere utilizzata come cavigliera oppure da appendere delle cuffiette a una cover per fermarla al polso insomma la vedo più per queste cose così e non portata a collana quindi difficilmente me la potrete vedere portata come una collana però come vi ho detto più volte i gioielli i capi d'abbigliamento nascono in teoria per essere portati in un modo però ognuno di noi può trovarne un utilizzo diverso un po' più stravagante modaiolo e non per questo non può essere utilizzato in altra maniera poi quindi oggi ho voluto mettere questi due accessori non ho voluto aggiungere altro nel braccio sinistro voi lo sapete tengo su fissi dei bracciali nel destro ho voluto mettere solo questa collana perché nel mio polso fa tre giri rimane benissimo e non ho voluto mettere anelli oggi sono uscita anche velocemente quindi non mi sono soffermata su altri accessori per quanto riguarda il mio outfit di oggi ve lo mostro qua al lato ho voluto mettere il mio smanicato o meglio giubbottino in denim di twinset che aveva le maniche stamattina quando vi ho mostrato senz'altro il momento del mio outfit ve l'ho fatto vedere con le maniche attaccate e di mattina presto c'era un po' di freschetto però poi è venuto il caldo e quindi ho staccato le maniche che hanno solamente tre bottoni l'ho voluto abbinare ad un outfit total black quindi ho messo questo body vecchissimo di tezenis per avere la possibilità di avere il braccio coperto qualora avessi tolto le maniche e così è stato i pantaloni sono anche questi forse di due anni fa di tezenis che avevano un cinturino e io l'ho levato e ho voluto sovrapporre sopra il giubbotto l'avrete visto senz'altro dal lato questa cintura con i dettagli argentati per non andare in contrasto con gli orecchini molto vistosi che ho messo oggi quindi il mio outfit come potete vedere è semplicissimo total black con dei piccoli dettagli o grandi dettagli che lo rendono un po' più particolare ho voluto abbinare i miei occhiali dolce gabbana perché all'interno rimangono maculati in quanto oggi ho voluto mettere la borsa il diciamo bauletto cilindrico questo di mia bag che rimane maculato ma non è uguale al maculato di tutte le cose che possiedo quindi sta malissimo con le due scarpe maculate che ho e secondo me per non essere eccessivo deve essere messo o in un outfit tutto beige o bianco o denim che sia grigio o nero tutti i colori del denim ma non con tante cose perché vincola un tantino pensavo di abbinarlo con più facilità ma in certi casi un po' stona quindi ho voluto abbinare questi occhiali che hanno l'interno maculato che è un maculato che è diverso ma si intravede e per gli occhiali va più che bene quindi questo è il mio primo video per quanto riguarda o meglio il secondo video per quanto riguarda lez in style ci vedremo prestissimo se riesco mercoledì o venerdì dipende da quello che indosserò perché come vi ho già detto l'outfit del giorno non lo scelgo tanto tempo prima apro l'armadio prendo le cose da stirare perché non stiro più niente se non all'occorrenza lavo e metto via e in base a quello vedo cosa abbinare quindi appena rimetterò gli altri accessori quindi gli occhiali la collana e il bracciale vi mostrerò un altro mio outfit spero che questo video un po' più alternativo vi abbia fatto piacere mi sono scordata di dirvi che scarpe ho abbinato ho voluto abbinare le scarpe puma che hanno il retro in denim chiaro per poter riprendere il capo in denim tutto qua quindi il mio video termina qui ringrazio ancora lez in style per avermi dato l'opportunità di prendere questi accessori economici ma d'effetto sotto in descrizione vi lascerò i link non solo dei prodotti che vi ho mostrato cioè solo del set anche se oggi non ho messo gli occhiali ma vi metterò come sempre tutti i prodotti che ho voluto scegliere e vi lascerò il mio codice sconto io vi saluto vi auguro una buona serata vi do appuntamento a mercoledì con un mio nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti